cari amici dolfor shooters e dolfor hunters collari da addestramento nuova pronuncia della corte di cassazione nella video lezione di oggi vedremo la sentenza della corte di cassazione numero 10 758 del 2021 i fatti materia diritto penale l'ambito è quello della detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura ed uso del collare elettrico la normativa di riferimento è l'articolo 727,2 del codice penale tizio viene sottoposto a controllo da parte dei carabinieri forestali durante una battuta di caccia emergeva a quel punto che il suo cane era dotato di due collari il primo per il richiamo acustico ed un secondo munito di due elettrodi in grado di dare piccole scosse elettriche all'animale tramite un telecomando a distanza in sede di controllo però questo telecomando non viene rinvenuto da parte dei militari a quel punto scatta nei confronti di tizio la denuncia per aver tenuto il cane in condizioni incompatibili con la diluinatura ai sensi dell'articolo 727,2 del codice penale il tribunale in primo grado condannerà tizio per il reato degli contestato ed applicherà una multa di 2000 euro la vicenda approderà dopo il secondo grado di giudizio in corte di cassazione la sentenza vediamo ora come hanno ragionato gli ermellini vi diciamo subito che tizio verrà assolto interessanti sono le motivazioni in quanto con esse la corte di cassazione delinea in modo molto preciso quali sono i confini logici giuridici di applicazione dell'articolo 727,2 del codice penale partiamo dal fatto che la cassazione richiama quello che stabilisce l'articolo di cui sopra l'articolo 727,2 del codice penale infatti punisce chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze vi è poi un importante richiamo a quello che è l'orientamento giurisprudenziale pacifico e acclarato della stessa suprema corte secondo cui in sostanza integra la fattispecie di reato l'utilizzo di collare elettronico che produce scosse o altri impulsi elettrici trasmessi al cane tramite comando a distanza integra la contravvenzione di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze poiché concretizza una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull'integrità psicofisica dell'animale il punto che ci interessa è quello che segue secondo gli ermellini in effetti ad integrare la condotta criminosa non sarebbe la semplice apposizione sull'animale di un collare ad impulsi elettrici ma invece il concreto uso dello stesso è la dimostrazione del grave stato di patimento e sofferenza inflitto all'animale in assenza del dimostrato stato di patimento psicofisico inflitto all'animale infatti si fuoriesce dal perimetro di applicazione del reato di quell'articolo 727,2 del codice penale il cane di tizio tra le altre cose veniva sottoposto a visita veterinaria ed in quella sede veniva dimostrato il buono stato di salute del cane senza segni cutane all'altezza del collo tra l'altro veniva anche scongiurata anche la presenza di eventuali danni all'udito i giudici della cassazione chiudono la sentenza evidenziando come fosse totalmente sbagliata la motivazione in primo grado poiché aveva ravvisato la condotta criminosa nella semplice apposizione sull'animale del collare elettrico non considerando invece che per l'integrazione della fattispecie di reato è necessario che l'animale versi in un grave stato di patimento e sofferenza psicofisica elemento quindi scongiurato dalle varie anche perizie eseguite in sede di giudizio